Ministero Selvaggio dopo lo 0-0 con il Palermo, primo tempo meglio loro, secondo tempo meglio voi? È stata una partita molto intensa, molto maschia, il Palermo è una squadra molto organizzata, molto fisica e nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà soprattutto sulle palle aeree però bene o male i ragazzi hanno tenuto bene le distanze per le parti quindi hanno giocato anche in modo molto intenso hanno saputo tenere a testa una squadra terza in classifica che nelle ultime giornate ha sempre vinto quindi sono contento così Se proprio c'è da trovare forse il peno nell'uovo nella ripresa è l'episodio che magari vi è mancato lì davanti per poter magari sbloccarla, no? Ce l'abbiamo avuto in un paio di situazioni per poterla buttare dentro non ci siamo riusciti, va bene così insomma, abbiamo fatto una buona gara intensa, sono contento così